Al Via d'Assisi, l'ottava edizione del Cortile di Francesco 2022, 30 appuntamenti dal 2 al 4 settembre, tra incontri, visite guidate speciali, eventi musicali, un'esibizione artistica di danza verticale della compagnia Il Posto, sulla parete del campanile della Basilica di San Francesco, laboratori creativi per i bambini e la performance teatrale finale di Monica Guerritore. Il Cortile di Francesco 2022 si svilupperà in due sezioni, l'Eterno, dove i relatori si occuperanno delle grandi e differenti visioni spirituali e culturali, e il Tempo Presente, dove si analizzeranno le maggiori criticità che contrassegnano la contemporaneità, cambiamento climatico, conflitti bellici, immigrazioni, lavoro, crisi economiche ed energetiche. In dialogo ci saranno personalità della società civile, del mondo religioso e della cultura, tutti eventi in presenza e a ingresso libero. Presenti tra gli altri il Presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, il Presidente IMS, Pasquale Tridico, l'economista ed ex-ministro Fabrizio Barca, il Segretario della CISL, Luigi Sbarra, lo Storico d'Arte, Flavio Caroli, il già Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, la filosofa Donatella di Cesare, lo Storico Franco Cardini, il responsabile Uncr Riccardo Clerici e il teologo Vito Mancuso.